Una task force della Polizia Municipale in Borghese in giro di notte per i quartieri di Salerno contro gli incivili del Sacchetto. Questa la risposta dell'amministrazione comunale in seguito al verificarsi di razzie tra l'indifferenziata con conseguenti strade imbrattate dall'abbandono dei rifiuti scartati, dai ladri di spazzatura, pronti controlli e maxi multe per stanare chi gestisce illecitamente la frazione indifferenziata domestica. Ecco cosa ne pensano i salernitani. È una buona cosa, almeno abbiamo un po' di ordine, un po' di igiene e adesso andiamo a incontrare l'estate. Penso che sia una buona iniziativa perché effettivamente si vedono tanti incivili che lasciano anche sacchetti, soprattutto nelle zone periferiche dove anche vivo anch'io. E quindi poi questi sacchetti diventano oggetto di animali randaggi e anche di persone alla ricerca di qualcosa. Il comune dovrebbe precedere in questo caso perché appunto si tratta di materiali a volte anche preziosi come il tungsteno che sta nelle lampadine per esempio. Io praticamente l'altro giorno ho trovato tutto un sacchetto sventrato, però non credo che avessero rovistato. Il problema è che poi certe volte rimane parecchi giorni questa roba, quindi più che la task force ci vorrebbe qualcuno che poi spazzasse. Io credo che ci sia anche un altro problema. Le persone adesso non portano più la spazzatura, non fanno più la raccolta differenziata. Molti per esempio portano quello che vogliono, quando vogliono. I più controlli sì e anche forse più multe. Si fa diciamo così una violenza a quella che è la civiltà.